Chiudere il centro della città al traffico è questo il problema. Abbiamo qui con noi Claudio Pesero, presidente della FIAB di Alessandria, l'associazione che si occupa di favorire l'uso della bici ma di moderare anche il traffico in città. Certo, è un'associazione che promuove la bicicletta e comunque la mobilità sostenibile, quindi anche la pedonalità e il trasporto pubblico. E' contraria all'abuso dell'automobile. Voi avete lanciato un hashtag in questo periodo che è molto interessante. Sì, è un hashtag che può sembrare provocatorio ma è anche realistico. L'hashtag è liberiamo Piazza delle Libertà, cioè liberiamo Piazza delle Libertà, sì, liberiamola dalle auto, sottinteso. Piazza delle Libertà è un luogo simbolico, è la piazza principale della città e non esiste città in Europa che abbia la piazza principale degradata a parcheggio. Quindi la nostra proposta è proprio quella di liberare la Piazza della Libertà dalle auto. Togliere il parcheggio, ripristinare il mercato e comunque Piazza della Libertà, torno a... c'è il comune, la prefettura, la provincia, banche, assicurazioni. Quindi non sarebbe comunque una piazza morta perché le attività attorno, locali, pubblici, le attività attorno alla piazza sono molteplici e quindi la piazza principale della città dovrebbe essere una piazza restituita ai cittadini. Tra l'altro non c'è niente da sperimentare perché negli anni 70, quando eravamo ragazzini, in Piazza della Libertà c'era il mercato ed aveva un grandissimo successo ed era un punto d'incontro. Per cui non c'è un problema in realtà o una paura che il mercato possa non avere successo lì? Sì, oltretutto il mercato attualmente in Piazza Garibaldi fa sì che il parcheggio sia a intermittenza. Un parcheggio a intermittenza in realtà sono più i problemi che crea che quelli che risolve. Il parcheggio o c'è o non c'è, non è che possa essersi due giorni alla settimana, sì un altro giorno per metà, un altro giorno non c'è. Quindi Piazza Garibaldi potrebbe essere destinata effettivamente sette giorni su sette a parcheggio e Piazza della Libertà tornare a essere il centro vivo della città. In realtà tutte le piazze all'interno del centro andrebbero liberate delle auto, così anche Piazza Vittorio Veneto, ma anche Piazza Gobetti almeno in parte dovrebbe essere liberata delle auto, così da creare un corridoio che porta l'isola pedonale da Piazzetta della Lega a Via Milano, a Via Dossena al nuovo ponte. Quindi un percorso unico pedonale e vivificato appunto dall'isola pedonale e dalla presenza di attività. Ecco, anche sotto questo punto di vista noi pensiamo a una città molto più viva. Grazie.